Nuovo controllo della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza al Palazzetto del Nuoto, anche stavolta nessuna sanzione. La questione è quella ormai nota alle cronache dopo decine di segnalazioni da parte dei cittadini al Comune di Arezzo, sul fatto che il gestore non ha intenzione di chiedere il Green Pass all'entrata, erano scattati i primi controlli. Nessuno però era stato trovato in vasca e quindi nessun provvedimento, come nel caso degli ultimi controlli. Non è stato il primo e non sarà l'ultimo, i controlli alla piscina comunale di Arezzo proseguono, parola dell'assessore comunale allo sport Federico Scapecchi. La struttura gestita dalla Chimera Nuoto è punto di riferimento anche per tante associazioni di persone con disabilità, su questo il gestore si esprime così. Sono in società, in associazioni, quindi io come da sempre faccio le convenzioni con l'associazione e l'associazione garantirà le proprie procedure. Quando viene qui l'associazione, firmando la convenzione, mi garantirà che sono rispettate le norme, tutte le norme che si ritiene opportune. Dopodiché la sua gestione, non posso interferire io sulla gestione di un soggetto terzo, quindi... Quindi le associazioni che chiederanno i Green Pass? Ma che ne so io quello che faranno le associazioni? Posso mica dare io le indicazioni all'associazione? L'associazione? Le associazioni, per esempio io ce ne ho pareti di disabili, faranno quello che ritengono più opportuno. Quando vengono qui, come sempre abbiamo fatto, sottoscriviamo una convenzione nella quale vengono rispetto del regolamento, rispetto delle norme, rispetto di quelle e loro si assumono la responsabilità, come fanno al di fuori della piscina. Le segnalazioni degli utenti che lamentavano la carenza di controllo del Green Pass si sono moltiplicate. In questi giorni, Scapecchi afferma, non lesineremo i controlli, continueremo a farli perché la normativa sull'obbligo del Green Pass va rispettata. In caso di violazione delle norme per arginare il contagio da coronavirus, rilevate per tre volte consecutive, il locale può essere anche chiuso. Non si può, scusi, chi chiude? Chi chiude chi? Chiude, fa provvedimento. Ma non mi vuol dire che siamo in dittatura? No, chiude, fa un provvedimento, ci sarà un magistrato che deciderà chi chiude. Chi chiude?